La procura ha disposto che venga effettuata l'autopsia sul corpo di Mirko Bottaccini, il 55enne di Trebaseleghe, morto ieri mentre stava lavorando all'interno di un cantiere edile di Massanzago in via della Pieve, nell'alta Padovana. L'uomo, operaio di una ditta del veneziano, secondo una prima ricostruzione dei tecnici dell'ospisal, è stato travolto da un carico di materiale legato alla gru del cantiere, il cui cavo d'acciaio si è improvvisamente rotto. La procura ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto l'infortunio mortale sul lavoro e ha aperto un'indagine per ricostruire le cause che hanno portato alla rottura improvvisa del cavo d'acciaio del mezzo. Oltre all'ospisal, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno chiarire se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Mirko Bottaccini, in 55 anni, viveva a Trebaseleghe ed era padre di due figli adolescenti. La sua famiglia era già stata assegnata da un pesante lutto nel 2005 quando la sorella, all'epoca 26enne, morì in un incidente stradale. L'operaio dell'alta Padovana è la quarta vittima del lavoro a Padova da inizio anno. Oltre a Mirko Bottaccini, ieri in Italia ci sono state altre due morti bianche, un bracciante agricolo a Cuneo e un autotrasportatore a Caserta. I sindacati tornano a puntare il dito sulle condizioni di lavoro. Non si parli di fatalità, tuonano i rappresentanti di categoria. Non è una coincidenza, non è una fatalità. I morti sul lavoro sono la conseguenza di quello che è un elemento culturale e strutturale di questo paese che esiste pienamente sulla carta ma concretamente non esiste. Abbiamo un decreto legislativo che è forse il più completo al mondo, abbiamo tutti gli strumenti necessari, ma alla fine si continua a morire sul lavoro. Non sono i 4 morti su Padova, sono i 400 all'anno, sono i 600.000 infortuni da inizio anno a maggio. Una cosa veramente indignitosa e vergognosa per un paese che si ritiene civile. Possiamo più vivere di fatalità perché la sicurezza non si contratta, è un bene comune e che oggi non deve essere visto come un costo. Ci deve essere più formazione, più monitoraggio e noi come sindacato stiamo facendo anche una mappatura giornaliera dei cantieri proprio per monitorare le situazioni.